dal sito www.bibliomarchesud.it del catalogo unificato delle province di ascoli piceno fermo e macerata possiamo accedere anche a rete indaco cos'è è una grande biblioteca digitale e alla quale è dedicata vedete uno spazio apposito nella home page del portale del catalogo e che offre gratuitamente agli utenti delle biblioteche aderenti ebook video audiolibri banche dati e portali videogiochi corsi di lingue musica e learning e come accedere a tutti questi servizi innanzitutto con un'unica autenticazione che va fatta qui nello spazio personale e per la quale vi rinviamo agli appositi tutorial una volta entrati diciamo nel proprio spazio personale si può avere accesso a tutte le risorse di rete indaco o lanciando la ricerca dal monocampo questo dove siamo posizionati e quindi troveremo così insieme alle risorse digitale anche quelle tradizionali libri dvd eccetera presenti fisicamente nelle varie biblioteche del polo oppure possiamo utilizzare i canali specifici di rete indaco facciamo adesso una prova di mono ricerca cerchiamo l'autore shakespeare allora qui troviamo diciamo ordinati per rilevanza oltre 3000 risultati di opere documenti presenti nelle biblioteche sulla colonna di destra invece troviamo i risultati relativi a rete indaco e in particolare ci sono quasi 700 registrazioni sonori musicali ecco sono delle risorse musicali da ascoltare accomunate appunto dalla presenza nel loro titolo della parola chiave che abbiamo digitato nel campo monoricerca quindi shakespeare tornando indietro ci sono quasi 400 ebook disponibili in download in questi formati assolutamente gratuiti e quindi scaricabili e in formato pdf o quelli che vengono qui specificati e non soggetti a vincoli scaricabili liberamente e senza vincoli di durata oppure da leggere in streaming vale a dire e online attraverso la connessione alla rete internet senza limitazioni alla durata del prestito anche qui allora e tornando indietro ci sono infatti anche materiale video dedicato a shakespeare e anche due audiolibri da ascoltare quindi abbiamo visto lanciando la ricerca che lancieremo solitamente per cercare un documento in catalogo abbiamo la possibilità filtrando con le apposite faccette e tag che troviamo sulla destra al di sotto della dicitura rete indaco la possibilità di vedere appunto queste risorse digitali fruibili gratuitamente oppure come abbiamo detto all'inizio possiamo utilizzare i canali specifici andando a cliccare sull'apposito spazio rete indaco ed entrando appunto a consultare gli ebook che sono oltre 42.000 qui suddivisi per anno ma che possiamo filtrare per autore per anno di pubblicazione per lingua per formato digitale e per tipologia quindi ebook oppure periodici andando a filtrare per periodici troviamo delle risorse una quarantina di risorse allora tornando indietro abbiamo qui invece i video e con corsi di lingue lezioni universitarie ricette di cucina filmati scientifici video per bambini e lo stesso si può scegliere sia la lingua sia il formato digitale quindi streaming da vedersi direttamente online e c'è anche questa tipologia oppure ci sono gli audiolibri quindi i libri da ascoltare e ce ne sono 200 circa tra cui i classici ed altri solitamente sono tratti appunto dal sito di liber liber e sono disponibili gratuitamente la comodità è che comunque sono ricercabili attraverso il canale di ricerca del del portale e quindi sono integrati in una ricerca più bassa e quindi facilmente reperibili allora e poi abbiamo banche dati e portali e per banca dati si intendono appunto non so i dizionari e l'archivio ghetti e la stampa quindi ci sono edit 16 che è il censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo e si intendono quindi banche dati molto particolari e molto specialistiche e anche c'è la collezione digitale per esempio dei libretti dell'archivio storico ricordi oppure quella che si riferisce al museo tattile statale di Omero e la collezione digitale dedicata a Luigi Pirandello tutte collezioni diciamo da scoprire poi c'è la voce anche dedicata ai portali per esempio l'archivio di Emily Dickinson la biblioteca Bodoni e internet culturale che ci rimanda ai cataloghi alle collezioni digitali delle biblioteche italiane e vedete le risorse sono veramente tantissime e c'è anche qualche videogioco circa una ventina per gli appassionati del genere ci sono corsi di lingue oltre 800 si può scegliere tra inglese spagnolo francese e tedesco e musica da ascoltare con oltre 75 mila risorse e sonore musicali di ogni genere e per ogni gusto e il learning quindi anche qui materiale video prevalentemente scientifici anche in più lingue come vedete e l'accesso diciamo sono tantissime le risorse digitali sono contenuti di qualità e organizzati secondo diciamo con competenza sono organizzate selezionati con competenza dal personale bibliotecario sono gratuiti e l'accesso è regolamentato secondo le norme di legge e possono essere consultabili ovunque e per approfondire potete anche leggere cos'è rete indaco dove ci sono i vari link che vi rimandano anche alle biblioteche aderenti alla rete indaco e alle informazioni relative alla consultazione delle risorse digitali e alla pagina diciamo al ai social dedicati a questa rete sia su facebook che su twitter ed è quindi un intero mondo diciamo che vi invitiamo senz'altro a scoprire perché siamo sicuri che troverete ciò di cui avete bisogno o che state cercando grazie dell'attenzione